Su cheng itali, corso intensivo d'italiano. Il vaso è bello. Il fiammifero è piccolo. La penna è gialla. La matita è rossa. La borsa è nera. La porta è chiusa. La finestra è aperta. La lampada è accesa. La stanza è piccola. Secondo. È azzurro il libro? Sì, il libro è azzurro. No, il libro non è azzurro, ma grigio. È grigio il quaderno? Sì, il quaderno è grigio. No, il quaderno non è grigio, ma azzurro. È bianco il foglio? Sì, il foglio è bianco. No, il foglio non è bianco, ma giallo. È scomodo il banco? Sì, il banco è scomodo. No, il banco non è scomodo, ma comodo. È nuovo il quadro? Sì, il quadro è nuovo. No, il quadro non è nuovo, ma vecchio. È bello il vaso? Sì, il vaso è bello. No, il vaso non è bello, ma brutto. È piccolo il fiammifero? Sì, il fiammifero è piccolo. No, il fiammifero non è piccolo, ma grande. È gialla la penna? Sì, la penna è gialla. No, la penna non è gialla, ma rossa. È rossa la matita? Sì, la matita è rossa. No, la matita non è rossa, ma bianca. È nera la borsa? Sì, la borsa è nera. No, la borsa non è nera, ma rossa. È chiusa la porta? Sì, la porta è chiusa. No, la porta non è chiusa, ma aperta. È aperta la finestra? Sì, la finestra è aperta. No, la finestra non è aperta, ma chiusa. È accesa la lampada? Sì, la lampada è accesa. No, la lampada non è accesa, ma spenta. È piccola la stanza? Sì, la stanza è piccola. No, la stanza non è piccola, ma grande. Terzo Di che colore è il libro? Il libro è azzurro. Di che colore è il quaderno? Il quaderno è grigio. Di che colore è il foglio? Il foglio è bianco. Di che colore è la penna? La penna è gialla. Di che colore è la matita? La matita è rossa. Di che colore è la borsa? La borsa è nera. Com'è il banco? Il banco è scomodo. Com'è il quadro? Il quadro è nuovo. Com'è il vaso? Il vaso è bello. Com'è il fiammifero? Il fiammifero è piccolo. Com'è la porta? La porta è chiusa. Com'è la finestra? La finestra è aperta. Com'è la lampada? La lampada è accesa. Com'è la stanza? La stanza è piccola. Quarto. I libri sono azzurri. I quaderni sono grigi. I fogli sono bianchi. I banchi sono scomodi. I quadri sono nuovi. I vasi sono belli. I fiammiferi sono piccoli. Le penne sono gialle. Le matite sono rosse. Le borse sono nere. Le porte sono chiuse. Le finestre sono aperte. Le lampade sono accese. Le stanze sono piccole. Quinto. Di che colore sono i libri? I libri sono azzurri. Di che colore sono i quaderni? I quaderni sono grigi. Di che colore sono i fogli? I fogli sono bianchi. Di che colore sono le penne? Le penne sono gialle. Di che colore sono le matite? Le matite sono rosse. Di che colore sono le borse? Le borse sono nere. Come sono i banchi? I banchi sono scomodi. Come sono i quadri? I quadri sono nuovi. Come sono i vasi? I vasi sono belli. Come sono i fiammiferi? I fiammiferi sono piccoli. Come sono le porte? Le porte sono chiuse. Come sono le finestre? Le finestre sono aperte. Come sono le lampade? Le lampade sono accese. Come sono le stanze? Le stanze sono piccole. Sesto. Il fiore è bianco. I fiori sono bianchi. Il bottone è nero. I bottoni sono neri. Il pesce è fresco. I pesci sono freschi. Il serpente è velenoso. I serpenti sono velenosi. La cornice è rossa. Le cornici sono rosse. La chiave è gialla. Le chiavi sono gialle. La lezione è lunga. Le lezioni sono lunghe. La torre è alta. La torre è alta. Le torri sono alte. Settimo. Il cartello è grande. Il testo è facile. Il ragazzo è intelligente. Il tappeto è marrone. Il cancello è verde. Il libro è interessante. Il lago è celeste. I cartelli sono grandi. I testi sono facili. I ragazzi sono intelligenti. I tappeti sono marroni. I cancelli sono verdi. I libri sono interessanti. I laghi sono celesti. La porta è grande. La parola è facile. La ragazza è intelligente. La giacca è marrone. La barca è verde. La rivista è interessante. La camicia è celeste. Le porte sono grandi. Le parole sono facili. Le ragazze sono intelligenti. Le giacche sono marroni. Le barche sono verti. Le riviste sono interessanti. Le camice sono celesti. Ottavo. Il tessuto è blu. La stoffa è blu. Il guanto è viola. La sciarpa è viola. Il fiore è rosa. La maglia è rosa. I tessuti sono blu. Le stoffe sono blu. I guanti sono viola. Le sciarpe sono viola. I fiori sono rosa. Le maglie sono rosa. Nono. Il bianco è chiaro. Il marrone è scuro. Gli occhi sono chiari. La foglia è verde chiaro. Il film è in bianco e nero. Le fotografie sono in bianco e nero. Il giallo è chiaro. Il nero è scuro. I capelli sono scuri. Il ferro è grigio scuro. Il film è a colori. Le fotografie sono a colori. Il film è falso. Il film è giallo ciò. I buono. I upperi essi. Il sequel è a colori. Anniper Rifлексia. Grazie a tutti.